tutte belle in pigiamate fai vedere un po questo pigiama mamma mia un'altra però avevamo detto di non esagerare va bene un'altra senti ma questo pigiama ti piace ma ti dite sì ne prendi una e basta adesso però perché le stai già prendendo una basta dai un bacino agli orsetti con la buonanotte che se li va a mettere a letto dammeli ancora basta basta vero ma di meno basta come no dai che si mette a fare le nene gli orsetti dai che ne ha mangiato i quattro matti mettiamo a fare i miei orsetti senti ma gli dici grazie a te zenis che ti hanno regalato il pigiamino come cattata lo dici grazie a chi a te a te zenis tanto le stai a mangiarsi i cosi dai 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 abbiamo mangiato il cioccetti ne facciamo l'ultimo l'ultimo uno solo l'ultimissimo dai dice come tua zia dai solo che mi conosce sa le canzoni che scrivo le pazzesche proprio rienterpretate da me lei va da me come ascolta canta un po la canzoncina quella in inglese che non non la sa hai detto dell'acqua scusa non ho capito ti bagni ma che detto l'acqua e mi è passata la pota è passata la pota matilde gli orsetti sono andati a dormire perché si è fissata col cappuccio due caramelle non sono finite eccola la pota scappa oddio 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 sta con caldo è andata via la pota non ci stanno più ste caramelle sono le tue vieni a dormire con me io piango no 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 un altro adesso rito sono felice perché ci sei tu che hai detto molti no no fai piano papà fai piano capito papà no no fai piano eh papà fai piano per favore papà papà mio fai piano fai piano oh no fai piano mamma 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 sandra mamma sandra è mia madre no è tua è mia madre no è tua tua madre è mia madre è tua mamma solo mia mamma però e di mio fratello giuseppe e di mia sorella è venuta la signora torna se la portate via vedi che ha lasciato pure la porta aperta è aperta eccola la volta non è chiusa mamma mia è la veronica è mio peppe no peppe è mio fratello prima e veronica è mia sorella nonno nonno è mio padre però nonno è mio padre nonno è mio padre è mia madre è mia veronica veronica è mia sorella però è tua madre no veronica è mia figlia eh però pure mia sorella ah sì c'è ma ti piacciono questi pigiami nuovi? ti piacciono i nostri pigiami? però Anika è mia madre sì però Anika è tua madre ma ti piacciono i nostri pigiami? no chi è che te l'ha regalato ricordami? la mano la tua rezza no non potevo non metterlo perché va premiata per l'onestà no va premiata per l'onestà nonno nonno sta facendo niente nonno ma quello che ti dico io no? ma chi sei come le vecchiette che quando fanno la tosti gli parte la puzzetta hai fatto la puzzetta ma ti è inutile che sbagli hai fatto o no sta puzzetta? no impegnati di più di più dai no non sta avvenendo no? impegnati brava ragazzi sì buongiorno ma come buongiorno? ti sei fatto giorno a te buonanotte dovresti dire vado a fare nenne con tata tatina buongiorno buongiorno ragazzi ma perché buongiorno? buongiorno ragazzi ma perché? ma perché? ma io dico così come faccio io scusa? buongiorno ragazzi e poi che faccio? e poi che faccio scusami? poi la faccio papà povera tata e e voglio sapere una cosa c'è una persona che vuoi salutare? oddio è venuto benissimo adesso vedere? faglielo vedere? oh mio dio i nostri calzini siiii devi dormire tu devi dormire tu mi fai vedere? lei vuole giocare con me è contenta quando sta con me vero? io voglio giocare ora gli abbiamo fatto vedere un'altra cosa che ci ha regalato te Zenisa alle ragazze faglielo vedere un po' no non lo devi rompere no ma dammi un bacetto le carezze no? no piano cara cara adesso devi dormire si è spento pure la propisa piano aio adesso adesso basta buongiorno 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 l'ho sentito buongiorno più forte buongiorno più forte buongiorno già ci siamo l'idea carica ci siamo carica 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 ma che si sceme ma si sceme e dai leva questo giugno sei la mia piccola oddio 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 ti è ti è ti è ti è grazie ciao c'è la bua c'è la bua l'ho visto zia l'ho fatta Andrea no l'ho fatta Andrea l'ho fatta la medicina eh l'ho fatta la medicina vorresti il giugno vorresti il giugno 5 minuti ancora 5 minuti ancora 5 minuti 5 minuti dai davvero ho dato zia tata hai visto monella sta cozzia tata sì sì certo no sono i vestiti di nonno no che combina un macello nonno no come è stigione su qua ok ho detto no ho detto no ho detto no suo nonno non fa casino ah non fa casino nonno ho detto sì dì monella ma che dici hai detto sì ho detto sì bella patata fatta signore no no che signore è una medicina una medicina che prendo mi fa fare la bua ciuccio dov'è? vorresti il ciuccio di monella eh sì sei tu la monellina di casa la piccola peste eh monella eh sì sei tu la monellina di casa la piccola peste ma vada non sono diventata famosa e non manco me le faccio no non ti registro monella non ti registro dirlo non ti registriamo monella 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 lina bella piccola monella lina bella piccolina oddio dove vai? stai scendendo mi chiamano monellina tu sei la pallina dove vuoi andare? dove vuoi andare? dove vuoi andare? a lavorare con la zia come ha fatto zia? come ha fatto zia? come ha fatto zia? come ha fatto zia? zia 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 zio peppe zio peppe bennini zia 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 ma mia mamma sta con mio fratello mia mamma sta con mio fratello anche tu dai vai da tua nonna anche tu in fondo dai oddio non sto più bene oddio non sto più bene non sta più comodo perché tu gli dai fastidio che dici nonna? tutto a posto mamma mia Peppino Peppino